Alessandro mi ha insegnato a non fermarmi all'apparenza di una persona, ma a guardare dentro. Appena mi dice il buongiorno e vedo il suo sorriso, mi si illumina la giornata e posso partire alla grande, carico. È una donna fortissima, è una donna che è un vulcano, è un'energia di emozioni. È una persona buona e generosa. Veramente mi è rimasta nel cuore questa cosa qua, quindi non la dimenticarò mai. Anna Clara ha portato sicuramente un po' di dolcezza nella mia vita. È un ragazzo d'oro, un ragazzo dal cuore grande. Basta schematizzare il tutto e vivi. Francesco mi è stato vicino nei momenti più tristi, più brutti. Ti voglio bene e se sono felice anche grazie a te. È riuscita a farmi sentire utile a qualcosa. E non è facile perché quasi mai nessuno mi sento sempre inutile. La Laura è una persona fantastica e sono veramente orgoglioso di averla come pupa. È divertente, autoironico, altruista, generoso, galante anche. Penso davvero che tu sia la sorella che non ho mai avuto. La Laura è una persona fantastica e non ho mai avuto. La Laura è una persona fantastica e non ho mai avuto. La Laura è una persona fantastica e non ho mai avuto.